Eccomi qua, finalmente sono arrivato davanti ad un pubblico così prestigioso. Buonasera a tutti, finalmente siamo arrivati sul palcoscenico di fronte ad un enorme pubblico. Chi è sto tizio, vestito all'antica? Verrà dal passato? Ehi ragazzi, venite! Ma voi chi siete? Questo è il mio palco, è dal settecento che io sono il protagonista di queste scene. Come osate profanare il mio palco? Ma io di vecchio conosco solo l'iPhone 4. Di cosa state parlando? Anche i date del vecchio. Anche se siete più moderni di me non significa che siate migliori di me. Ma tu hai vissuto assieme ai dinosauri? Stolti! Come osate parlare in questo modo al protagonista della storia teatrale di questa città? Io che ho visto crescere Torino fino a diventare come attualmente. Ma di cosa stai parlando? Tutte queste cose ormai non hanno più valore. Io sono talmente importante che il mio onore hanno dato il nome ai cioccolatini più buoni del mondo. Ma mangiati sto Gianduyotto! I robot se ne stavano andando offesi. Quando ad un certo punto... Ehi, tornate qua, giovani! I robot ritornano in scena. E tu cosa vuoi? Non pensate di dovervi scusare con Gianduia. Per colpa vostra è andato via triste e molto arrabbiato. Dovete capire che senza il passato non ci sarebbe la tecnologia di oggi e quindi non esistereste nemmeno voi. Va bene. Effettivamente non ci avevamo mai pensato. Adesso ve lo chiamo. Gianduia! Venturna sì! Ritorna Gianduia. Cosa volete ancora da me? Vorremmo scusarci con te per averti dato del preistorico. Senza tutto quello che abbiamo imparato nel corso della storia, non saremmo arrivati ad avere le conoscenze che abbiamo oggi. Il futuro ha un cuore antico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.